segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te intanto io negli occhi queste immagini bellissime sono appena atterrato da milano c'è stata una manifestazione straordinaria con oltre 100 mila persone Giorgia Meloni ci ha approvato stamattina ma non ci riesce non ci riesce a dire con chiarezza quello che serve perché fai un pezzo di una pagina e non dici mai semplicemente quello che ha detto oggi mattarella mattarella oggi ha detto poche parole ma di una chiarezza fortissima che la nostra repubblica e la costituzione traggono fondamento dalla lotta antifascista questa parola antifascista non riuscite a dirla è un'ambiguità è un problema è una cosa da superare per il paese e io me lo faccio a dire solo per un istante io penso che il fascismo sia un fenomeno storico che è passato voi non siete fascisti perché siamo in un altro tempo anche se la russa che c'ha la statua di mussolini a casa sinceramente sono abbastanza abbastanza brividi non riuscite però a dire che siete antifascisti e non riuscite a riconoscere che la repubblica è fondata sulla lotta antifascista Gasparri poi professoressa perché dobbiamo rispondere a quella domanda perché allora grazie alla vittoria dell'antifascismo in italia c'è stata la democrazia hanno votato gli italiani alla costituente al parlamento l'ho detto lo ridico senza alcuna difficoltà abbiamo votato tutti quanti la mozione che hanno presentato le sinistre al senato l'altro giorno con parole tratte da un intervento della senatrice abita segre dopodiché le sinistre si sono spaccate il pd e il gruppo anche a cui fa riferimento speranza non hanno votato la mozione del centrodestra che è stata un caprota che condannava il fascismo il nazismo e il totalitarismo comunista io non ho difficoltà a definirmi antifascista lei si definisca anticomunista se ne ha la forza allora guardi guardi intanto io dico questo io sono io sono contro il comunismo anticomunista io sono contro il comunismo che c'è stato in russia ma dico a testa alta la storia del comunismo italiano la storia del pc italiano è stata una storia importante di questo paese attenzione quindi lei non si definisce anticomunista lei non si definisce anticomunista io sono anche anticomunista è una delle migliori personalità della storia di questo paese io sono contro il sovietico antico non ci perdiamo perché c'è una filosofa con noi abbassiamo